Musica Allora a tutti i wizardiani Io sono Ante Revoca Ghiaccio E in questo video cercheremo di prendere Il distintivo per gli scacchi colorati Vedete? Oggi ho vinto 9 partite e mi manca l'ultima Sperando che poi non ci sblocchi Un altro distintivo Ad esempio il 100 vittoria Allora Iniziamo 3 2 1 Via Ok Divertiamoci 1 1 2 Grazie a tutti. 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 Ok... Bye... Ciao... 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 Allora... No... 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 Ok... 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 Okay... round. Se tutto va bene abbiamo vinto. Perfetto. Vediamo l'istintivo. Top allenatore. Ok, e ne dovremmo vincere altre 40. Va bene dai. Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Allora!